San Vincenzo lo fanno gli acatesi e non solo il palio, l'antica contea di Biscari è in fermento. Già dalle prime ore del mattino c'è attesa per l'allestimento delle ormai storiche bancarelle e per il cantante che non importa e merita chi sia, l'importante è che la festa vada avanti. Sono venuta per Pasqua, adesso c'è San Vincenzo e resto avanti avendo la casa qua. Io abito a Trieste, però il richiamo della terra natia c'è. Pensa che sia cambiata la festa di San Vincenzo? Sì, io me la ricordo che ero ragazzina, si può dire, signorinella, adesso manco da 40 anni, è cambiato qualcosa. Anche se vedo un certo fervore comunque persistere. Il palio non c'è, me ne faccio una ragione, non mi interessa neanche, anche se si considera il fatto degli sviluppi che si sono sentiti, questa mafia che non so quanto c'entri, quanto è vero, certo che manca, come nel contesto generale manca. Stasera canterà Paolo Meneguzzi, con probabilità conosciuto dai più giovani e sconosciuto ai più, ma gli acatesi non hanno dubbi si uscirà lo stesso a passeggio per le vie della città. Certamente il fatto che il palio non si faccia da tre anni per noi acatesi è una cosa negativa. Lo so che nei centri storici questo non si può fare più, però andare a creare ad esempio un ippodromo fuori paese dove i cavalli possano correre secondo tutte le regole, i canoni che esistono, questo ci starebbe, come ad esempio nella città di Floridia. Ma la festa è sentita comunque, gli acatesi è... Non c'è altro, guardi che cos'ho, a Masureida di San Vincenzo. A sostituire il tanto di battuto palio, oltre alla sfilata dei cavalieri, sono state le mostre d'arte, sartorie e fotografia, location il castello dei principi di Biscari che ha ritrovato come sempre il sapore dell'arte e della cultura nelle sue sale.